grazie grazie per avermi aperto la porta che cavaliere buongiorno a tutti ben ritrovati in questa trasmissione rosy dove siamo ma ma guarda io mi sembra un paradiso delle auto mai visto una cosa io non ho mai visto qualcosa di simile davvero già arrivando da fuori è uno spettacolo oggi vi abbiamo portato in un posto incantato siamo a casei gerola siamo nella sede principale di ariel car poi vi racconteremo esattamente che cos'è ariel car vi dico soltanto due dati importanti qua potete trovare oltre mille autovetture a vostra disposizione di cui arrivi quotidiani di oltre 200 autovetture ci troviamo in questa sede siamo strategicamente vicinissimi a milano e questa è la cosa che vi vorrei trasmettere siete a milano siete veramente a due passi da questo paradiso in 30 minuti potete essere qua e scegliere l'auto dei vostri sogni con delle caratteristiche uniche che andremo a raccontare durante la nostra trasmissione assolutamente tra l'altro hai parlato di 200 arrivi quotidiani questo vuol dire che se avete un desiderio potete iscrivervi e avrete l'opportunità di essere richiamati quando arriva proprio la vettura che state cercando perché è davvero qualcosa di incredibile andando sul sito avrete l'opportunità di vedere come dicevamo dalle 800 alle 1000 vetture ma il mio consiglio è quello di venire assolutamente personalmente perché adesso state già vedendo qualche immagine avrete tutte le vetture suddivise per city car per medie adesso poi facciamo con questa splendida vetturetta che ci sono 25 anni che io e la rosi facciamo questo genere di lavoro e credetemi una realtà come questa io non l'ho mai vista fra l'altro parliamo della sede principale ma la disponibilità di aere il car in tutta italia per voi potete trovare un'esposizione come questa anche a roma la potete trovare a firenze la potete trovare a bologna la potete trovare a verona tutte queste sedi fra l'altro sono collegate fra di loro per darvi un servizio unico in maniera tale che il cliente venga qua e non abbia nessun tipo di problema nel cercare la vettura com'è difficile comprare un'autovettura usata questo è il motto di questa azienda vi vogliono togliere qualsiasi problema perché vi danno delle caratteristiche di vettura che sono qua potete avere ma che vi racconteremo dopo perché prima vi voglio parlare di questo un sito meraviglioso dove potete andare a vedere esattamente tutte le autovetture che sono disponibili ma soprattutto questo questo è un motore di ricerca che vi consente da a casa comodamente seduti di andare a cercare l'autovettura con la disponibilità di ariel di eventualmente anche portarvela a casa ma di questo ne parleremo dopo molto importante il sito adesso si è aperto su una pagina delle autovetture perché vi dà la possibilità di conoscere i servizi di conoscere le sedi di scegliervi l'autovettura di farvi anche un preventivo eventualmente per il trasporto a casa ma soprattutto di incominciare quel rapporto privilegiato che hanno i clienti a ariel con lo staff di vendita che vi presenterò dopo per trovare veramente l'auto dei vostri sogni qui le possibilità sono innumerevoli e non vedo un solo motivo per non poter comprare un'autovettura il paese dei balocchi il paese dei balocchi diciamo altre due cose importanti sono tutte unico proprietario hanno tutti i chilometri certificati tutta la manutenzione programmata e anche di questo vi parleremo dopo assolutamente qualcosa venite a scoprirla anche voi ok io direi prendiamo la nostra come si chiama questa come si chiama ragazzi questo bug da golf che ci hanno messo giustamente a disposizione non tanto per la rosic atletica ma per me che sono anziano per fare tutta questa strada e vi faccio vedere qualche panoramica di vetture intanto vi racconto che cose aree e le opportunità che avete qua che non potete assolutamente perdere ed eccoci qua rosi in questo paese dei balocchi straordinario fra l'altro la cosa interessante che sono anche tutte le vetture che vedete ordinate per categoria per categoria certo perché ci sono le city car in questo caso ci sono le berline due volumi fra poco arriveremo anche alle berline tre volume ci sono tutti i suv piuttosto che le station wagon piuttosto che le city car insomma sono tutte messe in modo che voi possiate passeggiare se avete un'idea di vettura la trae con volete un suv eccoli 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 guardate poi monovolume c'è veramente è bellissimo esatto da dove arrivano queste autovetture rosi lorico hai studiato io ho studiato assolutamente il nome arval vi dice qualche cosa giusto assolutamente assolutamente sono vetture appunto da noleggio a lungo termine molto importante il lungo termine non il breve termine questo è molto importante vuol dire che hanno seguito tutta la manutenzione programmata quindi tutte vetture che hanno una carta identità poi daniele ve ne parlerà più a lungo più nel dettaglio comunque con i chilometri certificati con tutta la manutenzione naturalmente effettuata questo vuol dire una garanzia in più per voi la garanzia può essere estendibile fino a 24 mesi e poi i finanziamenti finanziamenti particolari tra l'altro uno particolare per chi vede la trasmissione e lo dice assolutamente quindi dite di aver visto questa trasmissione perché avrete l'opportunità di avere finanziamenti a tasso zero sull'usato e non è facile trovarli a tasso zero sull'usato e poi in alternativa potrete scegliere invece di avere la prima rata dopo sei mesi oppure di avere un finanziamento molto lungo con rate bassissime addirittura fino a 72 mesi per cui davvero grandi le opportunità per voi ripeto sull'usato usato garantito e certificato mi fermo un attimo e ne presento una mario se non ti arrabbi io parcheggio un attimino qua ve ne presento qualcuna giusto così anche se poi dopo vi ho diciamo così messo da parte quattro chicche veramente interessanti una cosa che vi vorrei vi vorrei sottolineare intanto la vicinanza dalla città di milano da torino veramente in mezz'ora siete qua ma la possibilità di venire qua e scegliere l'autovettura dei vostri sogni anche se l'autovettura non è disponibile perché con 200 vetture in arrivo al giorno voi potete prenotare l'autovettura e quando l'autovettura arriva magari anche in un'altra sede coordinarsi con i consulenti di vendita che poi vi farò vedere quanti sono per far sì che questa autovettura venga addirittura a casa vostra autovetture con certificazione certificazione vuol dire che hanno tutte una carta d'identità che vi dice segno per segno ogni tagliando ogni manutenzione programmata che è stata fatta sull'autovettura per cui sorprese zero i chilometri sono veri i chilometri sono veri e certificati tutto con una ecogaranzia che viene data con la possibilità di essere estesa fino a 24 mesi e chiaramente un check up gratuito che viene fatto prima della consegna per cui con estrema fiducia dovete venire qua a vedere queste autovetture una caso bmw x3 x drive 2000 diesel eletta 4x4 2012 autovettura da 18 mila euro qua ne abbiamo un'altra vediamo scusatemi se vi do le spalle questo è un 2013 del sempre x drive 2000 futura x drive sta per il 4x4 lo sapete a 22 e 7 la possibilità di comprare un'auto qui è veramente unica perché potete dare in permuta al vostro usato potete finanziare finanziamenti fino a 72 mesi sull'usato non ve li fa nessuno ve li fanno solo qua poi se avete visto la trasmissione venite qua e dichiarate di aver visto la trasmissione nel cassetto anno in alternativa ai 72 mesi anche un'opportunità di tasso zero unica perché sull'usato nessuno lo fa da aria il car potete trovare questo possibilità di leasing possibilità di noleggio di noleggio anche ai privati per cui le opportunità sono talmente tante che non vedo un motivo per non acquistare officina interna la possibilità di darvi le autovetture completamente revisionate anche dal punto di vista di meccanica le auto quando dicevo prima la rosi mario torniamo sul kart che facciamo l'ultimo pezzo intanto io parlo le auto arrivano dal noleggio a lungo termine per cui vuol dire che hanno avuto un solo proprietario la manutenzione certificata i chilometri veri e soprattutto sono autovetture che proprio per la per la logica del noleggio che è omnicomprensivo di tutto quello che riguarda le gomme italiani vengono controllate per cui non è la macchina che non ha mai fatto italiani ma veramente sono talmente sicuri del loro prodotto che vi danno addirittura una carta d'identità a certificazione di questo 365 giorni all'anno sette giorni su sette chiaramente a parte qualche sabato e domenica di festa a vostra disposizione però facciamo l'ultimo pezzo con la rosi vi faccio vedere ancora un po di city car qualche altra familiare molto interessante poi le quattro le quattro particolari che ho che ho deciso di farvi di farvi vedere il sito signori www.arielcar.it lì dovete andare lì dovete andare a vedere tutto perché ci sono mario guardami bene mi tolgo gli occhiali per se non ci credete mille macchine dove le trovate mille macchie dove le trovate dovete girare dai cinque ai dieci concessionari e quando ci avete tutto a portata di mano tutto in una sola sede a 30 minuti da milano se non siete ancora saltati dal divano avete preso vostra moglie siete saliti in macchina e signori ci dovete pensare io quando nella mia testa penso all'acquisto di un'autovettura usata con determinate caratteristiche di garanzia di sicurezza penso dare il car per cui qua vi aspettano andiamo avanti rosi ti sei annoiata no no assolutamente ho sentito che parlavi di milano ma siamo anche vicinissimi a torino e siamo anche vicini un po di parte no vabbè ci ho abitato torino un po di di affetto c'era per quella città comunque siete vicinissimi in un punto strategico a caseggerola vedete l'indirizzo quindi vi avevo promesso quattro chicche dell'usato certo ed eccole qua partiamo da peugeot 3008 2013 71 km a 11.050 usato certo in prevalenza ma anche chilometro zero ai veicoli commerciali non dimenticate mercedes classe b 180 automatica 2014 65 mila chilometri 18 150 quando dico usato certo signori e questo è unico proprietario carte d'identità qua sono segnati tutti i tagliandi che ha fatto il 28 6 2 5 17 6 tutto quella che è la cronistoria di questa autovettura per darvi la tranquillità massima volvo xc 90 d5 avd geotronic 52 550 chiudiamo con questa bellissima audi che è un avant 3000 tdi business sport 2016 freschissima 21.000 km a 41 650 ma ariel vi dà anche la possibilità di proteggere il valore del vostro usato con delle assicurazioni uniche due anni di valore nuovo ve la rubano dopo 23 mesi avete ancora 41 650 qui per ricomprarvi la stessa autovettura franchisi ha scoperto zero sulle garanze accessorie non perdete queste opportunità e mi sa che come al solito il tempo è terminato tempo fuggito ma per salutarvi da questa bellissima sede sicuramente la rosi avrà per voi una sorpresa guarda la sorpresa è bellissima vedete parte dello staff di ariel che naturalmente sono a vostra disposizione tutti i giorni sette giorni su sette per aiutarvi nella scelta della vettura quindi non mi resta che far salutare proprio da loro ariel ariel